Musica Muora 29 anni di overdose all'interno del parco del Colle del Pionta. È successo nel pomeriggio di mercoledì attorno alle 16. Il giovane Unarettino è stato ritrovato senza vita nel cuore del parco cittadino, stroncato probabilmente da una dose letale di droga che avrebbe assunto poco prima. Il corpo senza vita è stato ritrovato a due passi dal centro di Urno, l'ex convento delle Suore. A dare l'allarme sono stati gli stessi operatori del centro che si sono accorti dell'uomo seduto e privo di sensi. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A quanto pare il giovane era già deceduto alcune ore prima. Il corpo del ragazzo infatti si trovava in un punto un po' nascosto proprio dietro al pozzo vicino all'ex Casina delle Suore. Presenti anche gli agenti della polizia per i rilievi di legge per le indagini. Ancora una volta è dunque il parco del Pionta, teatro di un drammatico episodio.